gentili telespettatori buona giornata calenda sempre più schierato con meloni con il governo meloni lui che ha detto di essere stato affascinato dalla storia di giorgia meloni dalla storia personale di come è arrivata al al governo ma su questo ve l'avevo detto già in passato che era ovvio sono due personaggi politici molto simili due aree differenti ma molto simili e pertanto trovano questo feeling perché sono simile simili come politici oggi calenda dice ma forza italia e berlusconi ma che razza di partito siete perché intanto scenari futuri calenda nel governo meloni non credo proprio non credo proprio ma potrebbe essere un partito che in più occasioni potrà aiutare il governo su vari temi intanto forza italia vede cose quando hanno saputo dell'incontro tra calenda e meloni un incontro normalissimo tra governo e opposizione incontri che dovrebbero esserci piuttosto che andare in piazza a sbraitare senza senso contro qualcosa che non si sa meglio andare a parlare che andare in piazza anzi sarebbe meglio parlare piuttosto che andare in in piazza ma invece quando forza italia ha visto questo incontro hanno pensato a una sostituzione tipico di chi ha la coda di paglia cosa vuol dire c'è un incontro normalissimo tra l'opposizione e il governo un incontro istituzionale e forza italia ci vede già il loro accantonamento per fare entrare calenda quindi vuol dire che avete la coda di paglia vuol dire che sapete che state remando di star remando contro il governo e quindi quando vedete avvicinarsi l'opposizione pensate già che vi vogliano sostituire quindi questa è la prova del 9 ecco la coda di paglia è la prova del 9 immaginano che azione italia viva possa sostituire forza italia bene calenda dicono da forza italia vuole fare la stampella del governo intanto proprio calenda ha parlato di ha parlato di diciamo che calenda sia una calenda detto che berlusconi è una minaccia per il governo ecco sono una minaccia per l'esecutivo meloni dice poi aggiunge calenda prima fanno cadere draghi e poi boicottano il loro governo forza italia è oramai un partito allo sbando produce solo rumore e problema e l'ultimo cinguettio di twitter su twitter di calenda ma arriva la replica dal vice presidente della camera e sottosegretario alla difesa mulè che dice calenda è un provocatore da noi nessuna imboscata essendo carlo calenda politicamente instabile non mi meraviglierei se alla dichiarazione sul fascino di meloni ne seguisse in tempi molto stretti un'altra in cui riconosce il fascino del male della premier allora facendo una piccola valutazione calenda politicamente instabile non direi perché è andato via dal pd e si è fondato un partito sarebbe instabile sarebbe da lodare più che da dire stabile quindi tutti quelli che fondano un partito andando via da qualcun altro sono politicamente instabili perché stabilità vuol dire entrare in un partito 18 anni e starci fino ai 150 è una diciamo una versione un po curiosa della stabilità politica naturalmente calenda è uno che dice quello che pensa oggi gli può andar bene meloni domani la meloni fa un provvedimento una legge che non piace calenda calenda dice che quella legge fa schifo ecco questo non è che vuol dire essere instabili vuol dire avere delle opinioni proprie senza muri ideologici oggi l'avversario politico dice una cosa che mi piace dico mi piace domani dice una cosa non mi piace dico non mi piace ecco carlo calenda non fa il partigiano o il tifoso della meloni ma valuta cosa per cosa ha detto sia un colloquio bene domani farà non so una legge che calenda reputa una mostruosità e calenda dirà che sono dei mostri ecco quindi su questo mule ha ragione nel senso che oggi dice che meloni ha un gran fascino e domani dice che ha il fascino del male ecco questo sicuramente ma se fosse così non sarebbe un qualcosa di negativo ma sarebbe un qualcosa che dimostra che non è una banderuola che dice quello che pensa che non fa che non ha ipocrisia in quello che dice che non deve fare il partigiano di nessuno bene intanto dice calenda dice mule scusate calenda continua a vivere in quello che avrebbe voluto essere ma non è cioè una forza che incide nella maggioranza parlamentare è perché forza italia invece non è la stessa cosa voleva essere e non è quindi è forte quando uno dice agli altri quello che uno è no è calenda voleva essere ma non è è perché forza italia non voleva essere ma non è mule dice con il suo quinto polo in realtà non è quinto polo ma è terzo polo quindi sono delle frasi così gratuite senza senso lui dice che nel suo quinto polo è relegato invece in un ruolo di opposizione peraltro non di prima fila con lui è tutto un vorrei ma non posso si candidava a guidare i presunti moderati dal terzo polo è diventato la terza opposizione allora ci sono tre partiti di opposizione che in questo momento ognuno va per conto suo c'è il movimento 5 stelle che ha più voti nei sondaggi poi c'è il PD quindi il movimento 5 stelle 17 PD 16 e c'è il terzo polo di calenda che ha 7 8 per cento quindi lui dice il terzo polo è diventata la terza opposizione beh questa non mi sembra una novità ci sono delle percentuali il suo partito è in terza posizione riguardo l'opposizione però dire tu sei la terza opposizione come se fosse una sorta di denigrazione è una sciocchezza anche questa no? rimarcare tu sei la terza opposizione vuol dire che calenda da fastidio se no uno non andrebbe a dire tu sei il terzo partito rilassati nel senso che tutto questo astio verso calenda che comunque in molti sondaggi ha più voti di forza Italia sarà la terza opposizione nella sinistra ma ha più voti di forza Italia che è il terzo partito di maggioranza quindi puoi ribaltare tutto contro forza Italia perché ormai è un partito al crepuscolo grazie a tutti e arrivederci